A prendere. Rinnovato allarme da parte delle associazioni Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Onlus a causa delle truffe segnalate e messe in atto tramite telefonate e visite porta a porta con richieste di contributi per bambini adulti e affetti dalla cecità. L'associazione da anni fornisce supporto e servizi alle persone con disabilità visiva in forma gratuita con un sostegno economico versato volontariamente dai contributi dei cittadini. Diverse le segnalazioni sul caso che sono arrivate direttamente al presidente provinciale dell'associazione Mencarini. Puntuale come l'influenza mi verrebbe da dire, ma non sto parlando di un'influenza o di qualcosa di positivo ma in realtà di una truffa che viene fatta ai danni della nostra associazione ma ai danni di tutta la comunità perché anche quest'anno alcuni cittadini ci hanno segnalato che alcune persone suonano ai portoni, suonano i campanelli oppure telefonano per chiedere soldi per l'associazione dei ciechi o per i bambini ciechi o per gli adulti ciechi. Ecco io come ogni anno raccomando a tutti di non dare questo denaro perché non siamo noi, noi non facciamo questo tipo di raccolta, non diamo questi messaggi, non andiamo porta a porta. Abbiamo bisogno del contributo di tutti, abbiamo bisogno delle donazioni perché i nostri servizi sono completamente gratuiti. Però non è questo il modo in cui noi raccogliamo i fondi. Anche alcuni negozianti ci hanno segnalato che ci sono delle persone che chiedono offerte per l'associazione dei ciechi dando in cambio un calendario. Ecco non siamo noi neanche in questo caso. Chi vuole aiutarci, chi vuole fare una donazione che tra l'altro è detraibile fiscalmente basta che venga o nelle nostre sedi a Fano e a Pesaro o il conto corrente postale o un bonifico bancario. Oppure ci vediamo il 13 dicembre che è la giornata di Santa Lucia protettrice della vista e se voi vedete qui ho un libro. Noi vi offriremo questo libro con i bracciatelli di Santa Lucia, quindi bracciatelli tipici. Questo è un libro che è stato scritto dal papà di un bambino con disabilità visiva. Quindi in questo modo voi ci potrete aiutare come in tutti gli altri modi. Però per favore è un appello. Non ascoltate chi vi chiede soldi, denaro per noi, porta a porta o attraverso telefonate. Non siamo noi.